Qual è la tua preoccupazione, Nick? Hai perso parte del tuo talento di attore? No. Che cosa ha detto? Ha detto che ti adora, ma alla fine è andato in una direzione diversa per quel ruolo. Io ho chiuso. Smetto di recitare. Cazzo. Mi dispiace, sto bidando tra le colline, puoi ripetere? Allora, Nick, abbiamo un'altra offerta. È arrivata stamattina. Di circa un milione di dollari. Come si chiama il proprietario? Javi. Javi. Signor Cage, io... Javi vuole che io faccia... Intendo... Non credo di capire. E se Javi... Sono io, Javi. Nick Cage. Questo posto è stupendo. Qual è il tuo film preferito? Impossibile rispondere, perché non puoi limitarlo a uno. Incredibile. Questo dovrei essere io. È grottesco. Ti offro 20.000 dollari. Non sapevo della scogliera! Potevamo morire! Sono in posizione. Sono sicuro che sia l'attore Nicolas Cage. Nicolas Cage! Ti adoro! Hai visto i Cruise 2? No. Ho 44 anni. Perché cazzo dovrei vedere i Cruise 2? e ti vengo a prendere. Cosa volete, ragazzi? Lavoriamo per il governo. Sa con chi sta passando il suo tempo? Uno degli uomini più spietati sulla faccia del pianeta. Deve aiutare il governo degli Stati Uniti. Trova un modo per entrare lì. Mi vedo a farne di più di queste cose di spionaggio, sotterfugi. Bene, perché abbiamo un'altra missione per te. Nicolas Cage sta lavorando per il governo degli Stati Uniti. Tu non devi mentirmi! Quelle sono le mie pistole d'oro. Sono le mie pistole d'oro. Non voglio ucciderti. Sei l'ultima persona che ucciderei. Ti voglio bene, cazzo. Io di più! Sono Nick. For tutta! Wow, Cage!